Perché parliamo dell'ascensione di Horace Benedict del Sassuero del 1787? Per i più motivi. Anzitutto si tratta della terza ascensione, quindi comunque un'ascensione di rilievo. In secondo luogo ne parliamo perché è l'ascensione in assoluto che ha il clamore internazionale giusto e importante che la fa apparire come la prima ascensione al Monti Bianco. È quasi bastato non parlare molto della prima ascensione effettuata da Pacquare Balmain dell'anno precedente perché questa lentamente lentamente un pochino cadi nell'oblio e invece questa diventerà importante. Parliamo di questa vicenda anche perché si crea uno scontro nuovo e inedito, quello tra Horace Benedict del Sassuero e Marc Theodore Burry, i cui interessi evidentemente a questo punto non coincidono. Ma vi è un'altra ragione importante che dà un valore particolare a questa ascensione del professore Ginevrino. Il fatto che la prima ascensione è stata semplicemente l'incontro tra due Chamoynard della valle che per diverse ragioni comunque si mettono assieme e salgono il Monte Bianco. Però questa combinazione è decisamente non corrispondente all'immagine filosofica del viaggio alpestre così tanto decantato e propagandato nel XVII secolo dai filosofi Haller e Rousseau che immaginano invece qualcosa di diverso tra il filosofo e il contadino, tra il cittadino e il villico. Insomma trasmettono immagini diverse. Per cui quella ascensione non corrisponde a questi canoni che nel mondo della cultura, dell'elite culturale, si stava prendendo campo progressivamente. E questa ascensione quindi che era in effetti la terza ascensione diventerà e verrà un po' ricordata come la prima. Vi leggo una breve dicitura di una lettera che Lord Palmerston in via De Sassure dopo che è venuto a conoscenza della prima salita di Pacquale e Balmat. E Lord Palmerston è un inglese della Royal Society, quindi personaggio importante, però cosa gli scrive? E questa la dice lunga, e qual è l'atteggiamento? Scrive a De Sassure dicendo mi rallegro con voi per la conquista del Monte Bianco. Quindi gli dà già il merito di una cosa che hanno fatto terzi. Avrei desiderato che foste voi il primo a posare i piedi in vetta. Merito che tanto vi compete di diritto. Sono tuttavia convinto che dobbiamo attendere fino a quando ci sarete salito voi perché la nostra curiosità sia soddisfatta. In sostanza che cosa si dice nell'ambiente scientifico? Quell'ascensione lì è come se fosse una ricerca di un itinerario. La vera ascensione la farà lo scienziato quando andrà, farà tutti i suoi rilievi eccetera. Quindi come dire, la comunità scientifica sta attorno al fatto che non vuole assolutamente considerare l'ascensione come sia l'ascensione vera. Ovviamente Boris si vuole imbucare nella prima salita del Monte Bianco dei Sassure perché sarebbe un modo straordinario per essere consacrato quale, dicevamo, storico delle Alpi. Ma in verità noi sappiamo che nel 1787 intanto le guide, tra l'altro pagate da dei Sassure, effettuano due tentativi e poi uno, lo abbiamo già detto, arriva a buon fine, quella con Jean-Michel Chalat, Alexis Tournier e Jacques Balmatt. E sappiamo anche che poi Jacques Balmatt scrive la lettera a De Sassure dove lo avverte che è stata, l'ascensione è stata fatta, le condizioni ci sono e gli va incontro. Per la verità però De Sassure pur essendo pagato, scusatemi, Jacques Balmatt pur essendo pagato da De Sassure, avverte anche Boris. Allora cosa succede? In fretta e furia, l'abbiamo detto l'altra volta, parte De Sassure da Ginevra, anzi dalla casa di campagna che stava vicino Ginevra, arrivato a metà percorso per salire verso Chamonix, si ferma a dormire con tutta la famiglia, suocere, figli, chi più ne ha più ne metta, viene raggiunto in quel punto lì da Jacques Balmatt che lo accompagnerà poi fino a Chamonix, ma viene raggiunto anche da Bourri e famiglia. Vanno tutti appassionatamente a Chamonix dove il tempo è terribile, tra l'altro Pacard De Sassure alloggerà nella locanda della signora Couteran nella quale noi abbiamo raccontato nel numero precedente lo scontro tra Pacard e Balmatt. Lì spesso cenano assieme le due famiglie di Bourri e di De Sassure e c'è un lungo periodo di brutto tempo in cui De Sassure riesce giusto a fare qualche passeggiata. Bourri continua a proporsi per essere con lui di salire perché ha in mente di scrivere in presa diretta le salite del Monte Bianco, ovviamente si è impadronito addirittura di quella di Pacard, figuriamoci se si impadronisce da quella De Sassure, ma De Sassure ormai è un po' stanco di questo atteggiamento e fa due operazioni importanti. La prima è quella che ha solda 18 guide e gli dice voi state lì fermi, non fate niente, io vi pago e quando sarà il momento andiamo in cima. In questo modo cosa fa? Toglie sostanzialmente dal tra virgolette mercato tutte le guide, quelle che possono accompagnare sulla montagna a Chamonix. Quindi Bourri è tagliato fuori. E a Bourri che cosa fa? Non è che gli dice qualcosa, gli scrive, nota bene che una sera sera, una sera da noce andavano con le famiglie, gli scrive dicendogli che in sostanza, molto infiorettata, gli dice lo storico delle Alpi, potrà salire solo quando da giù avrà visto che io sono su in cima al Monte Bianco. In quel caso, una volta sceso, gli metterò a disposizione delle mie guide che con te potranno salire sino alla cima. Bourri risponde dicendo no, io partirò solo sei ore dopo De Sassure. Perché? Perché lui ha in mente che partendo sei ore dopo sostanzialmente potrebbe arrivare nello stesso punto di bivacco e da lì partire assieme. Le cose però non andranno esattamente così, saranno diverse.